Permettete? Anche l'avvocato. Ecco, dicono che Juventus-Milan è anche una sfida fra Agnelli e Berlusconi, direi. No, no, no. È una sfida fra tecnici e giocatori. Ho detto adesso a Lidon, che ricordo quando è venuto qui, e ha vinto 7 a 1. Poi gli ho detto che lui dica ai giocatori che ha vinto il campionato. Cosa si aspetta, avvocato, da questa partita? Io credo che oggi, se il Milan vince, fa un grosso risultato. Se noi vinciamo, è meno importante. Juventus-Real Madrid? Difficile ma bello. Presidente, è casa dell'avvocato, come ha scritto? Siamo anche con Roma che osserva. Il signor Barilla, sponsor della Roma, è venuto ad osservarsi. Vi vedo allegri, è molto bello questo. Ma è vero che lei ha promesso un premio doppio ai suoi giocatori? Nessun premio. Abbiamo detto che i premi arriveranno se si piazzeranno in Europa. Continuiamo in questa direzione e non vediamo perché cambiare. E ha trovati tranquilli e è stato negli spogliatoi per... Tranquilli, caricati e decisi a dare un dispiacere all'avvocato. Vede Berlusconi è il grosso calmiratore del mercato.